Notti comiche al fresco di Gragnone è infatti Villa e Bossi ad ospitare il primo festival mondiale della comicità stand-up. Ospite con i suoi monologhi giovedì 11 luglio, Francesco De Carlo, uno dei talenti della stand-up che riempie club e locali in giro per il mondo. È l'unico, oltre al fatto che è un grande comico, ha dei testi molto carini, molto divertenti, molto intelligenti, è l'unico comico italiano, credo, in grado di fare il comico anche in inglese. E questo, insomma, per un ragazzo così giovane, aver avuto il coraggio di andare al Fringe Festival, che è il più grande festival dello spettacolo del mondo, a Edimburgo, e stare in cartellone per un mese, un italiano in inglese, è veramente una cosa, cioè io ho tutta la mia ammirazione. Sono venuto perché gli artisti che ci sono sono eccezionali, se avete presente Netflix, questo che c'è stasera è veramente uno di punta di loro, così come con il trio di Medusa, con Sabina Guzzanti, è una cosa da non perdere, alle 9 e mezzo ci sarò, ci sarà veramente uno spettacolo eccezionale, quindi stand-up festival, gli do il via, gli faccio un bocca al lupo e complimenti. Questo è un posto fantastico, tutti giovedì, quest'estate, è qui la festa, come direbbe Giovanotti, e quindi ci sono anch'io.